buongiorno e bentornati in una nuova lettura flash come sempre vi chiedo di lasciarmi un mi piace e un commento con un feedback ditemi quale avete scelto e se vi risuona e se volete letture più complete vi invito a guardare sul mio canale youtube il link è nella bio dunque oggi abbiamo scelto per il primo mazzo ho scelto il lapislazuli oggi siamo a tema egitto perché nel secondo mazzo invece abbiamo la piramide di giada verde quindi se vi serve più tempo mettete in pausa il video e fatemi sapere quale avete scelto vediamo quali messaggi hanno le carte per il mazzo numero uno con il lapislazuli allora l'oracolo dei delfini delle sirene vi dice abbi fede le tue preghiere si stanno manifestando mantieni un atteggiamento positivo e segui la tua guida interiore l'oracolo degli spiriti scusate le unghie perdonatemi vi dice lettere messaggi attraverso le lettere qui vedo anche addirittura una tavola ouija vi sconsiglio di utilizzarla perché se non siete capaci può essere pericoloso ma vi possono arrivare messaggi ad esempio attraverso i testi delle canzoni o trovando qualcosa di scritto anche una frase di un libro o di un fumetto qualcosa che state leggendo che può essere che potete percepire come un messaggio per voi quindi fate attenzione anche i cartelloni stradali e alla pubblicità e tutto alle cose scritte intorno a voi infine ho pescato una carta dei messaggi d'amore vediamo cosa dice la vostra vera fiamma gemella mi chiedo se tu sia felice senza di me fatemi sapere in un commento se vi risuona e se vedete qualche qualcuno di questi segni intorno a voi noi ci vediamo in una prossima lettura mazzo 2 con la piramide abbiamo riposo hai lavorato tanto fai un sonnellino riposati un po magari qualcuno di voi ha anche bisogno di ferie visto che siamo in agosto ed è periodo di ferie dovete staccare un po gli spiriti vi dicono spirito comunicazione di uno spirito potrebbe arrivarvi in sogno o non anche in altri modi un messaggio da parte di qualche spirito magari dei defunti o magari di un defunto a voi caro andiamo a vedere i messaggi d'amore che cosa dicono che cosa dice la vostra vera fiamma che voi siate in comunicazione o meno che siate in coppia o meno che cosa vi dice la sua anima ho problemi ad impegnarmi quindi fatemi sapere se vi risuona fatemi sapere se andate in vacanza e dove andate lasciate un mi piace un commento seguitemi per non perdere altre letture e noi ci vediamo in una prossima lettura flash a presto